Ciao, oggi sono qui, come penso potrete immaginare, per commentare, insomma, per ringraziare, oddio non lo so neanche io, insomma, per il fatto che ho vinto il concorso di Nanodà. Devo essere sincera, non me lo aspettavo, ok? Ora magari sembra, vedi questa quanto se la tira che dice, ah non me lo aspettavo, oh 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 oh, no, cioè non me lo aspettavo davvero, perché c'erano comunque almeno tre o quattro persone, come ho già scritto sul mio canale, di cui le recensioni mi sono piaciute tantissimo e che veramente io mi sentivo una vecchia moscia al confronto, quindi non pensavo proprio. Poi, non so voi, però passata magari un po' la tensione della prima settimana, finito proprio il concorso, diciamo che non neanche controllavo più tutti i giorni, perché in questi giorni ho studiato per gli esami e tutto, quindi ero un po' presa ad altro. Quindi è stata veramente una sorpresa pazzesca. Anche perché poi l'ho scoperto ieri sera tornata tardissimo a casa, insomma, veramente non so cosa dire. Sicuramente sono contenta, cioè mi pare ovvio. E però la cosa che mi ha stupito sono stati veramente i ringraziamenti, cioè io faccio i ringraziamenti per tutti i commenti che ho ricevuto, tutti i complimenti, le cose, anche adesso, ma anche comunque da quando ho aperto il canale, anche prima del concorso. Tutti sempre i commenti positivi, le cose che ovviamente magari ci sarà anche qualcuno che non mi sopporta, non mi può vedere, però non me l'hanno mai scritto e quindi non lo posso sapere. Però veramente sono sconvolta. Scusate, sono imbarazzatissima, non so neanche se lo dovevo fare questo video, però proprio per ringraziare, perché... Non so tutti i complimenti. Poi il fatto che comunque non pensavo, cioè quando su un anno d'anno comunque ho chiesto cosa ne pensassero gli altri. Sono stata veramente contenta, stupita, di vedere che molti mi hanno citato. Poi sapere che comunque il risultato finale è stato deciso anche in base a quello. Non lo so, cioè... Grazie. Grazie, non so che altro dire. Perché veramente, erano veramente bravi molti, cioè vorrei fare un nome su tutti, perché avevo pensato di non farlo, però, lo devo dire, a me le recensioni di Falco Pelle mi sono piaciute da morire. Già quando ho visto quella sulla bicicletta l'ho ammirato tantissimo, cioè sono rimasta sconvolta. Poi, porca miseria, mi è dispiaciuto tanto che il fatto del vento forte gliel'avesse rovinata. Poi quando è fatto quella del canotto, io stavo con la mascella spalancata a fare... No, un grande, questo ragazzo! Poi aveva anche messo in sottofondo una musica presata da Final Fantasy, quindi vabbè, si parla di Final Fantasy, si vado in brado di giugnole. Quindi, insomma, quelle di Falco Pelle su tutte erano le mie preferite. Ma anche altri, comunque, mi erano piaciute, quindi non pensavo davvero. Poi, personalmente, questo concorso mi è piaciuto. Si sono state varie critiche, a partire soprattutto dal video di Cava Di Plotino, che comunque ha dato, secondo me, degli spunti interessanti di riflessione, sul quale comunque ho già commentato, ho fatto un papiro di commenti lì. Cioè, non condivido tutto quello che hanno detto, però su alcune cose sicuramente c'era da riflettere. Io, personalmente, ho partecipato perché, cioè, il concorso è stato, diciamo, indetto nel periodo in cui comunque io ho aperto il canale. Cioè, è stato un po' concomitanza e quindi mi sono detta perché non partecipare, insomma. Tanto lo so, cioè, non ho partecipato solo per quello perché una mia recensione comunque l'avevo fatta prima e non l'ho usata per partecipare, comunque. E, sinceramente, ho partecipato anche per il premio perché, dirò a me, quasi tutti i manga del premio mi interessavano, soprattutto Gundam Origini, lo devo dire, io lo volevo da tanto, quindi potrò provarlo e sono contenta. E poi perché sarà un po' naif, lo so. Però, cioè, a me, personalmente, il fatto di aprire il canale comunque è stato aiutato anche dalla visibilità data dal concorso a tutti i partecipanti. Ho conosciuto altri ragazzi comunque con la passione per i fumetti. Poi non è parlare a faccia a faccia, a me ci si avvicina molto, a me piace. Cioè, mi piace molto rispetto magari a scrivere sui forum. E quindi ne sono contenta. Cioè, questa esperienza del canale YouTube mi sta arricchendo per molti versi, insomma, e quindi ne sono contenta. Quindi grazie, grazie, grazie ancora veramente per i commenti, la stima che mi è stata dimostrata. Cioè, veramente. Non pensavo quando ho iniziato. Cioè, vedere che ora ho 71 iscritti, se non sbaglio, e pensare che quando ho aperto dico, vabbè, dai, forse tra tre mesi arriverò a dieci. Dai, se arrivo a dieci, già è tanto. Quindi sono contenta. E una cosa che magari io volevo specificare, perché è sempre Falco Pelle. Tornando a lui, mi ha chiesto qualche tempo fa, forse due settimane, una domanda del tipo, ma tu nel caso vincessi, che te ne fai di tutti quei fumetti che non sono, non sembrano cose che tu leggi normalmente? In effetti sembra che, da quello che ho recensito, che mi faccia, diciamo, la fama di quella che recensisce le cose strane. In realtà sono molto più onnivora di quello che sembra nel leggere, almeno. Solo che magari molti shonen non ho i soldi per comprarli, quindi comunque devo fare dettagli, magari vado sulle cose che preferisco maggiormente, però molti, molti shonen e anche altri titoli più noti me li comprirei volentieri. Oltre ai soldi c'è anche il problema spazio. Infatti, io non so come dire ai miei genitori che arriveranno altri 50 manga, che non so dove mettere. Però, va bene, supereremo anche questo. Devo dire, comunque quei manga li leggo, fidatevi, io sono una che si letta anche tutto Captain Tsubasa, Holly e Benji. E addirittura per leggere World Youth, ho fatto le due di notte perché mi ero appassionata e volevo sapere come finiva. Quindi, comunque, tutte le serie che erano messe in palio, tranne una, tranne Needless. Needless è l'unica che non mi aveva mai particolarmente interessato, però la leggerò. Le altre mi interessavano tutte. Qualcuna ce l'avrò a doppione e sarò sincera, ora vedo un po', però pensavo di regalarle ai miei nipotini. Perché ho due nipotini di 11 e 5 anni, quindi magari potrebbero interessarli perché sono One Piece e Cheroro, soprattutto sui Cavaliari, sono ancora indecisa. Poi, ovviamente, sempre se la madre, cioè mia sorella, mi dà il permesso. Quindi pensavo di fare così, perché qualcosa ce l'ho a doppione. Poi, magari, quando mi arriverà il palco, rifarò un video in cui farò vedere i fumetti e ne riparlerò un po'. Quindi, non so veramente che altro dire, se devo dire qualcosa. Grazie. Non lo so, spero che non sembri un volersela tirare questo video. Cioè, veramente, l'ho fatto solo per ringraziare perché sono ancora totalmente stravolta da le dimostrazioni veramente. L'ho già detto di tutti i complimenti. Brava, bravissima, qualcuno è tutti i famosi per te. Ho detto, no, una ragazza me l'ha scritto su Anobi. Cioè, non me l'aspettavo davvero. Anche perché, quando l'ho detto a qualche mio amico perché ho scoperto di aver vinto, praticamente avevo degli amici qui a cena a casa, ieri sera avevo portato il portato dell'insalotto per vedere delle cose. A un certo punto, io così a tempo perso, mentre parlavo, non stavo girando su siti, avevo detto, apriamo pure una nota. Mi ha detto, vincitore del concorso. Poi neanche abbiamo aperto il video subito perché in cui c'erano gli altri a parlare. Allora, sono sceso a leggere i commenti e ho detto, complimenti a Eris, se ne ho mai risposto, oddio, quindi mi sono presa in agitazione e gli amici miei mi hanno chiesto, ma che c'hai, che non c'hai, cosa hai, cosa non hai. E quindi gli ho detto questa cosa. Oddio, sono rimasti stupiti perché nessuno di loro legge i fumetti. Men che me non manca, figuriamoci. Una ma addirittura ha detto anche se affettuosamente. Sei proprio una soggettona. Quindi, insomma, visto che normalmente la mia passione per i fumetti viene presa un po' come una cosa molto stramba e curiosa, tranne che dal mio ragazzo, per fortuna. Vedere poi così sul canale comunque tante dimostrazioni d'affetto mi ha fatto veramente contenta, quindi grazie. Non so che altro dire. Grazie. Sono contenta e ci risentiamo presto. Avrei dovuto fare un video di acquisti, ma è stata veramente una settimana impegnativa per tanti versi, ma magari ne riparlerò meglio, quindi ho comprato delle cose ma non le ho ancora lette. Quindi ci vediamo presto e ciao!